Stiamo parlando perché creiamo un figlio di carne, che non ce ne dicevo... ... ... ... ... ... ... costano al capitano io andando sulle pesce per metterli, per le stranemiglie d'euro per le stranemiglie d'euro, per le stranemiglie d'euro, per le stranemiglie d'euro ma guarda il cavo vecchio, se li immaginiamo se stanno arrivando il senso capitano, ora ci fanno con l'autorità che c'era arrivando ma sono i miei soldi delle stranemiglie non possono comandare i quanti signori ma se non arrivare ci fanno non si passavano se non c'era la motoveretta se non devono partire con la nave, cosa devono partire? io ho i miei soldi a 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